Buongiorno e benvenuti, vedo che anche quest'anno siamo numerosi e quindi a testimonianza dell'interesse che ruota attorno a questa iniziativa. Partirò un po' da un quadro generale che vede che i prezzi dei combustibili fossili, grazie, sono scesi rispetto ai picchi del 2022 ma i mercati restano tesi e volatili, la guerra poi in Ucraina e adesso quella in Medio Oriente fra Israele e Hamas alimentano un quadro che permane negativo, che rimane caratterizzato da alti tassi e da livelli di debito pubblico aumentati e direi preoccupanti. La crisi climatica si sta aggravando, la temperatura media globale è già di circa 1,2 gradi superiori ai livelli preindustriali, si stanno intensificando gli eventi meteorologici estremi, adesso ogni volta che piove siamo preoccupati, con rilevanti impatti anche economici, ne parlava bene prima di Olo. L'estrazione e il consumo mondiale di materiali continua a crescere, anche questo non va trascurato, siamo arrivati a 101,4 miliardi di tonnellate, il tasso di circolarità rimane basso ed è anche questo in diminuzione, con incertezza e volatilità dei prezzi delle commodity e difficoltà in sicurezza di approvvigionamento per alcuni materiali. Un dato sembra chiaro in questo contesto che l'economia alimentata da enormi quantità di combustibili fossili, che scarica in atmosfera miliardi di tonnellate di gas serra, deve cambiare per non precipitare in una catastrofica crisi climatica. E anche l'economia lineare, che punta al continuo aumento di prelievo e di consumo di risorse naturali, in un pianeta che resta limitato, non può durare, non è più sostenibile. Quindi la conclusione dovrebbe essere semplice e logica, l'economia di domani, non di un lontano futuro di domani, dovrà essere una green economy climaticamente neutrale, quindi decarbonizzata, circolare, cioè che consuma meno risorse naturali e rigenerativa. Su questa prospettiva per l'economia di domani sembra che almeno nei paesi avanzati vi sia una ampia condivisione. I ministri del clima e dell'energia e dell'ambiente del G7, che si è tenuto in Giappone il 16 aprile, ha scritto che avanzeremo e promuoveremo globalmente una trasformazione verde, lavoreremo insieme per realizzare la trasformazione delle nostre economie, per raggiungere l'azzeramento netto dei gas a effetto serra entro il 2050 al più tardi, al fine di mantenere un aumento di temperatura limite di 1,5 gradi a portata di mano e consentire economie resilienti al clima, circolari, prive di inquinamento e positive per la natura. Ha scritto a conferma di questa posizione ormai ampiamente condivisa, almeno nei paesi avanzati, l'Agenzia Internazionale per l'Energia nel suo ultimo rapporto World Energy Outlook, proprio appena uscito, dobbiamo andare molto più lontano e più velocemente, sottolineo. Sono disponibili politiche e tecnologie comprovate per allineare la sicurezza energetica e la sostenibilità, accelerare il ritmo del cambiamento in questo decennio e mantenere aperta la porta a un grado e mezzo. Le azioni chiave necessarie per ridurre le emissioni fino al 2030 sono ampiamente conosciute e nella maggior parte dei casi molto convenienti. A questa convenienza economica dedicheremo una particolare attenzione a questi Stati Generali. Il mercato globale delle tecnologie green è destinato a triplicare entro il 2030 fino a raggiungere 600 miliardi di dollari l'anno. L'accelerazione quindi della transizione ecologica è in corso non solo per ridurre le emissioni e gli impatti ambientali, ma lo ridico un'altra volta sottolineandolo per convenienza economica. E direi che questa è una novità che va colta per varie ragioni. La transizione ecologica è diventata un pilastro della competitività economica globale. Infatti gli investimenti globali, veniva già citato, mondiali nelle energie rinnovabili sono aumentati del 40% dal 2020. Nel 2020 era elettrica un'auto venduta su 25, nel 2023 è elettrica una su 5. Negli Stati Uniti nel 2030 il 50% delle nuove immatricolazioni sarà elettrico, due anni fa la previsione era del 12. L'Unione europea, le pompe di calore, per citare un'altra delle tecnologie green, raggiungeranno i due terzi del livello dello scenario di decarbonizzazione. Due anni fa la previsione era di un terzo. In Cina l'incremento al 2030 del fotovoltaico e dell'eolico offshore nel 2023, cioè in corso, è tre volte superiore rispetto a quello previsto nel 2021. Anche la Cina, che ha un ruolo rilevante nel plasmare le tendenze energetiche globali ormai, punta di più sulla transizione ecologica, anche perché il suo modello di crescita accelerata energivora ad alto consumo di fossili, soprattutto di carbone, sta giungendo alla saturazione in settori strategici decisivi, particolare quello delle costruzioni, la crisi immobiliare e anche delle infrastrutture. La Cina punta a crescere come potenza globale dell'energia decarbonizzata. Nel 2022 ha prodotto circa la metà degli impianti soldi per l'energia eolica e solare del mondo e ben oltre la metà dei veicoli elettrici venduti. Gli Stati Uniti hanno reagito sia all'aggravamento della crisi climatica, ovviamente, che colpisce pesantemente vari Stati Uniti, ma anche alla sfida cinese. Con l'Inflation Reduction Act del 2022 ha stanziato 370 miliardi di dollari in gran parte per la sicurezza energetica e per il cambiamento climatico. I crediti d'imposta hanno accelerato la diffusione del fotovoltaico e dell'eolico e promosso il raddoppio degli investimenti del capitale privato in questi settori. Questo impegno di grande dimensione sta rilanciando anche l'industria americana in questi settori, che subiva una concorrenza continua a subirla molto forte dell'industria cinese, ma questa reazione sta moltiplicando gli investimenti anche dell'industria americana in impianti negli Stati Uniti. La Commissione europea, ce lo ricordava ora Paolo Gentiloni, però il 24 ottobre in un rapporto sulle tecnologie pulite ha ribadito che l'Unione europea investe da tempo nella transizione verde e nella decarbonizzazione. Ciò riflette la sua ambizione climatica, ma anche il suo obiettivo di rafforzare la sua competitività e la sua autonomia strategica. Infatti veniva già ricordato dal 2021 al 2027 l'Unione europea contribuirà con 578 miliardi di euro agli investimenti per la transizione. È il 38% del bilancio europeo. E ricordo che l'abbè ha aumentato il pacchetto Repower EU da 30 a 45 miliardi, mobilitando investimenti stimati in 150 miliardi. Ma a che punto è la Green Economy, se è già fatto ceno, che la relazione come ogni anno presenta un punto sullo Stato della Green Economy in Italia? Beh, questo Stato quest'anno segnala difficoltà e ritardi e anche qualche punto positivo. Cominciamo dalla decarbonizzazione. La decarbonizzazione in Italia è in ritardo rispetto ai nuovi target europei. Dal 2015 al 2022 abbiamo ridotto le emissioni nette di gas serva solo del 4%. Dal 2019 al 2022 le abbiamo addirittura aumentate del 2%. La riduzione delle emissioni in atto nella prima parte del 2023 quest'anno per ragioni climatiche e di rallentamento dell'economia non bastano tuttavia ad allinearci con l'accelerazione richiesta dalla traiettoria europea. Nel 2022 l'energia rinnovabile è diminuita dal 21% dell'anno precedente al 19% del fabbisogno. Il trend è molto lontano dal target del 40% al 2030. Le rinnovabili elettriche sono addirittura calate dal 41 del 2021 al 35,6% della richiesta per il noto calo forte dell'idroelettrico dovuto alla lunga siccità. Nel 2022 sono stati installati 3 gigawatt di nuovi impianti per rinnovabili elettriche, un aumento rispetto alla media in realtà bassa degli anni precedenti. Però con l'aumento in corso restiamo ben lontani, che è confermato quest'anno con qualche miglioramento, dai 10-12 gigawatt annui di nuove rinnovabili che servirebbero per mettersi al passo con i target europei. Inoltre, veniva già detto, siamo in ritardo rispetto ai grandi paesi europei. Nel 2022 la Francia ha installato 5 gigawatt, la Polonia 6 addirittura, la Spagna 9 e la Germania 11. Noi tre, eh? Di fotovoltaico e di eolico ovviamente. Nel settore dei trasporti, cruciale per la decarbonizzazione, è molto duro in Italia da decarbonizzare, l'anno scorso i consumi energetici e le emissioni di gas serra sono aumentati di circa il 5%. Le auto benzina e diesel rappresentano ancora l'86% del totale. Le auto full elettriche, immatricolate dal 30 giugno, sono state solo 32 mila in tutto. Siamo ancora con valori molto bassi rispetto agli altri paesi europei. La produttività delle risorse nel 2022 rimane le migliori nell'Unione Europea in Italia, 3,3 euro di pil per chilogrammo di risorse consumata. Attenzione però che anche qui il trend è in calo rispetto al 3,5 del 2019. La percentuale di riciclo dei rifiuti, usiamo il dato del 2020 di Eurostar per poter fare la comparazione europea, non ha aggiornati i dati, è del 72%, è una media europea del 58%, quindi buon livello. Il tasso di utilizzo di materia proveniente del riciclo è del 18,4%, anche qui un buon livello rispetto alla media europea, attenzione, ma in diminuzione. In particolare segnalo anche nel 2023 difficoltà nel mercato delle materie prime e seconde e in particolare di quelle plastiche, ovviamente questo incide sui tassi di circolarità. Benché l'Italia sia ricca di biodiversità, la tutela del patrimonio naturale nel complesso è del 21,4% del proprio territorio. La media europea è del 26,4% e il 6,9% del proprio mare, la media europea è del 12,1%. Siamo al diciannovesimo posto nell'Unione Europea per le aree protette. Un dato interessante è quello della superficie interessata dall'agricoltura biologica che è del 18,7% di quello agricolo, con un aumento positivo del 7,5% rispetto allo scorso precedente. A questi Stati generali proponiamo come focus tematico, ho già accennato prima, l'approfondimento sui costi e sui benefici economici della transizione ecologica, non solo climatica, ecologica nel suo complesso. L'Italia, come veniva ricordato, è un hotspot del cambiamento climatico, vuol dire che è esposto a un cambiamento climatico più radicale e più rapido rispetto a quello medio globale, per una serie di ragioni che adesso non ho tempo di richiamare. Se l'Italia non facesse la sua parte, contribuirebbe a frenare l'impegno globale? Solo se noi facciamo la nostra parte e contribuiamo, e in modo rilevante perché non siamo uno degli ultimi paeselli più piccoli, contribuiremmo a promuovere la decarbonizzazione a livello globale. La decarbonizzazione non è una sfida epocale impegnativa, può essere vinta solo affrontandola come effettiva priorità. Molte delle attività per la decarbonizzazione sono già oggi economicamente convenienti. Alcune misure, e poi faremo alcuni esempi, possono essere prese per ridurre i costi e aumentare i benefici economici anche della decarbonizzazione. Per valutare l'impatto economico della decarbonizzazione abbiamo pubblicato diversi studi, qui ne estrago uno per brevità, che è quello elaborato da Confindustria e da RSE, che è la Società Pubblica di Ricerca sul Sistema Energetico, proprio quest'anno, che riguarda l'impatto economico della realizzazione in Italia degli obiettivi del pacchetto europeo Fit for 55. Quali sarebbero le conseguenze? Intanto c'è rispetto allo scenario di base, cioè senza questi nuovi impegni, un aumento dei costi di 38 miliardi nel residenziale per gli edifici, per le pompe di calore per le attrezzature elettriche, nel terziario di 28, nell'industria 8, 6 nei processi e 2 per la cogenerazione, nei trasporti, questo è interessante, i costi complessivi sarebbero addirittura diminuiti, perché secondo lo scenario RSE Confindustria diminuirebbe il numero delle auto in maniera anche significativa e aumenterebbero gli investimenti in bus e treni. Nel settore elettrico è dove dovrebbe esserci il maggiore investimento, 58 miliardi, 47,3 in più nel fotovoltaico, 35,8 in più nell'eolico, 6 in più nella bioenergia, ovviamente 6 meno nei fossili e poi ci sono investimenti di sistema abbastanza importanti, 24,7 miliardi, 8 nelle reti, 4 nella trasmissione nazionale, pompaggi nell'idrogeno, nel biometano e nella ricarica. Il totale verrebbe, sono costi e investimenti accumulati nello scenario decennale di 136,7 miliardi, ma già il valore aggiunto generato con questi costi e investimenti sarebbe di 689 miliardi, quindi attenzione che il PIL crescerebbe in maniera significativa, 689 miliardi. I risparmi diretti nel settore dell'energia sarebbero di 29,9 miliardi, ovviamente importi meno fossili e anche sui costi della CO2 che ormai si paga per il sistema ETS piuttosto cara, 36,1 miliardi. Ma la Confindustria e l'RSI ha fatto anche una valutazione delle maggiori entrate per lo Stato, perché questo valore aggiunto PIL investimenti ovviamente genera anche entrate. Vi risparmio le varie voci, fa 529 miliardi in più di entrate nelle casse dello Stato, non a debito, ma a debito di maggiore entrate. E quindi si capisce da questa fonte, che certo non credo sia sospettabile di parzialità, che questa transizione secondo gli obiettivi europei ha parecchi fattori di ricaduta economica positiva. In questa discussione sui costi e benefici economici sarebbe bene anche disporre di una valutazione dell'impatto economico della proposta di ritorno al nucleare in Italia. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, nell'ultimo rapporto World Energy Outlook, nell'Unione Europea nel 2022, l'anno scorso, il costo livellato dell'elettricità prodotta dalle centrali nucleari è stato di 160 dollari al megawattora. Di quella prodotta dal solare 65 dollari al megawattora e con l'eolico onshore 60 dollari al megawattora. E' quindi documentato, almeno da una fonte che dovrebbe essere autorevole all'Agenzia Internazionale dell'Energia, che l'energia elettrica prodotta da centrali nucleari oggi costa più del doppio di quella prodotta con l'eolico e col solare. Anche in passato, ogni volta che si presentava un nuovo reattore nucleare, che è una storia di 50 anni, si parlava di economicità e taglio dei costi, che poi a consuntivo, questi dati ci dicono che non ci sono stati. Ovviamente potremmo valutare i costi reali dei nuovi reattori meno grandi, chiamarli sbol con 300 megawatt, mi pare un po' eccessivo, meno grandi e modulari, non leggendo la loro pubblicità, ma quando soggetti terzi e indipendenti potranno fare un consuntivo. Quello che per ora risulta è che gli investimenti nei progetti per questi nuovi reattori sono giudicati rischiosi e poco attrattivi per i nuovi investitori privati, richiedono il sostegno di investimenti pubblici e hanno per ora l'appoggio delle imprese già impegnate nel nucleare e quindi già esposte a questa tecnologia. Penso che un elemento di riflessione dovrebbe essere invece come possiamo puntare in Italia sul 100% di elettricità rinnovabile che è più economica oltre che sicura e pulita, soprattutto solare e eolica, assicurando la continuità della fornitura con una quota importante e disponibile di idroelettrico, geotermico e biomassa, nonché con i pompaggi e con gli altri sistemi di accumulo. Per dare un contributo inferiore al 15% dei consumi di elettricità in Italia al 20%, stimati in 340-360 TWh, si dovrebbero costruire 20 reattori da 300 MW. Quali sono le regioni e i comuni italiani che si candidano ad ospitare un numero così consistente di reattori nucleari? Visto che in 30 anni in Italia sono state, quando c'era il nucleare, costruite 4 centrali nucleari più una non finita. E visto che è un semplice deposito di rifiuti radioattivi, previsto da una norma del 2010, un decreto legislativo, e che servirebbe, io sono d'accordo che serva, dopo 13 anni però non è ancora stato localizzato. Quanti anni ci vorrebbero in Italia per decidere, per localizzare, per autorizzare e per costruire 20 reattori nucleari? La mia conclusione è che il ritorno nucleare in Italia arriverebbe comunque troppo tardi. Ricordo che l'Agenzia Internazionale per l'Energia ci ha detto che per la decarbonizzazione dell'elettricità quello decisivo è il decennio in corso. Facciamo ora qualche considerazione sulla convenienza economica di un'accelerazione per una maggiore circolarità della nostra economia. Ricordo che l'economia italiana ha una forte dipendenza dall'importazione di materie prime. Il 46,8% dei materiali che consumiamo sono importati nel 2022. Ricordo che è più del doppio della media europea, che è il 22,4%. Questa accelerazione potrebbe essere realizzata applicando il pacchetto di misure proposte dalla Commissione europea, che potrebbero produrre in Italia una serie di risultati. Ovviamente sapete che queste misure sono molto articolate. Noi abbiamo fatto un calcolo applicando queste misure e possiamo arrivare a questa conclusione. Avremmo un taglio dei costi delle importazioni di materiali, che è ovviamente il primo effetto, sempre effetti accumulati al 2030, di 82,5 miliardi. Avremo un risparmio dei costi di smaltimento, che produce ovviamente meno rifiuti da smaltire, di 7,3 miliardi e aumenteremmo il fatturato del riciclo di 4 miliardi. Se ne parla un po' poco, ma anche il tema dei servizi ecosistemici ha una sua rilevanza economica. Intanto perché i danni ai servizi ecosistemici hanno delle ricadute anche economiche negative. Secondo il quarto rapporto sullo Stato del capitale naturale, fra il 2012 e il 2018 le trasformazioni di copertura del suolo hanno ridotto la capacità di regolazione dei regimi idrologici con perdite stimate fino a 3,8 miliardi. Si è molto polemizzato in Italia con l'iniziativa europea del Nature Restoration Law, iniziativa ovviamente che può essere e dovrebbe essere migliorata. Ma attenzione a evitare la sottovalutazione dei benefici economici del ripristino degli ecosistemi. Secondo uno studio anche da noi verificato, l'Italia potrebbe avere benefici di 2,4 miliardi del ripristino degli ecosistemi sostenendo costi di 261 milioni. C'è un rapporto costi benefici di 9 volte i benefici rispetto ai costi sostenuti. Ma come potremmo migliorare i benefici economici e ridurre i costi della transizione all'economia di domani? Il Consiglio nazionale della Green Economy il 18 ottobre, dopo una discussione, questa era la seconda riunione, molti immondamenti, sono più di 60 le organizzazioni delle imprese che partecipano al Consiglio, ha elaborato queste 11 proposte per ridurre i costi e aumentare i benefici economici della transizione. La prima proposta è quella di semplificare e rendere brevi e certi i tempi per le autorizzazioni. La durata e la complessità delle procedure rappresentano fattori rilevanti di costo e di ostacoli. Intanto dovremmo cominciare ad allineare le procedure e i tempi di autorizzazione per le aree idonee con quelle previste dalla nuova Direttiva Europea per le zone di riferimento. Fino al conseguimento della neutralità climatica i progetti per gli impianti per la neutralità climatica dovrebbero essere considerati di interesse pubblico prevalente, di interesse per la salute e per la sicurezza pubblica. Serve l'istituzione di sportelli che guidino e assistano le procedure. Se gli organi competenti non rispondono entro il termine stabilito. Gli adempimenti amministrativi vanno considerati approvati, tranne quando una valutazione di impatto ambientale non abbia dimostrato la sussistenza di un rischio ambientale significativo. Seconda proposta, approvare anche in Italia una legge per il clima. Un cambiamento di vasta portata come la transizione climatica, in questo cambiamento la mancanza di un quadro legislativo, non solo programmatico, legislativo, stabile e pluriannale genera incertezze e difficoltà per gli investimenti e aumenta i rischi e i costi delle scelte che vanno fatti. Spiace notare che solo in Italia, che fra l'altro siamo un paese dell'abbondanza della produzione normativa, proprio da noi manca una legge per il clima in vigore in tutti gli altri principali paesi europei. Terza proposta, approvata dal Consiglio nazionale della Green Economy, occorre una legge per la tutela del suolo, era stata annunciata anche con le misure del PNRR, abbiamo perso le tracce, con misure di adattamento. L'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi è un fatto ormai di nuova fase, di nuova condizione non straordinaria, ma della nuova condizione ordinaria. Ridurre la vulnerabilità con misure di adattamento, aggiornate al nuovo e cresciuto contesto, è diventato necessario e urgente. Occorre che questa legge la forzi la prevenzione valorizzando le soluzioni basate sulla natura che hanno il miglior rapporto costi benefici. Quarta misura, attuare una riforma della fiscalità in direzione ecologica. La riforma in senso ecologico del sistema fiscale è stata promessa molte volte, non riguarda solo l'attuale governo, ma è mai stata realizzata. Ed è molto importante. Anche la correzione dei sussidi ambientalmente dannosi, perché se continuo a incentivare i fossili è un po' più complicato poi decarbonizzare o il consumo di materia primavergine e non del materiale riciclato, questa correzione deve avvenire in maniera graduale e progressiva impegnando le risorse recuperate negli stessi settori di provenienza. Quinta proposta, accelerare la produzione di energie da fonti rinnovabili, l'elettrificazione in tutti i settori. Le rinnovabili ovviamente vanno aumentate tutte, ma l'aumento dell'elettricità prodotta con rinnovabili e l'efficienza energetica sono la via più efficace e meno costosa per decarbonizzare i consumi di energia. Occorre sostenere la maggiore diffusione dell'auto elettrica anche con misure di sharing e di leasing sociale per i bassi redditi, per il trasporto pesante marittimo e aereo, per alcuni processi industriali e per altri usi da decarbonizzare ma non elettrificati, è vantaggioso sostenere lo sviluppo dell'impiego di biometano, di altri biocombustibili e cominciare a produrre e impiegare idrogeno verde. Introdurre, sesta proposta, un sistema efficace di incentivazione per l'efficienza energetica degli edifici. Gli edifici in Italia consumano una gran parte dell'energia e dove è più difficile intervenire se vogliamo però tagliare le bollette all'importazione di gas oltre le emissioni di gas serra, è fondamentale tagliare i consumi energetici negli edifici. Serve un nuovo sistema che sia di lunga durata per non alimentare le speculazioni come è accaduto con il super ecobonus del 110, mantenendo lo sconto di fattura e l'accessione del credito per il 70% dell'importo. Per il restante 30% si può favorire l'accesso a mutui verdi a tassi agevolati e potrebbe essere il 100% solo per coloro che hanno redditi bassi inferiori ai 20.000 euro. Il sistema dovrebbe richiedere una verifica sull'efficacia significativa del risparmio, effettuata misurando i consumi di energia prima e dopo l'intervento. Rafforzare la circolarità delle produzioni e consumi. Anche questo valorizza al meglio le potenzialità dell'economia italiana e aumenta i benefici e taglia i costi. C'è il tema della responsabilità estesa dei produttori in alcuni settori dove ancora non si è applicata a fondo, batterie, dispositivi elettronici, tessili, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, si sta discutendo, materiali da costruzione e demolizione. Bisogna rafforzare gli sbocchi di mercato delle materie prime e seconde prodotte dal riciclo sia con strumenti fiscali, ma se non c'è lo sbocco di mercato adeguato è chiaro che la circolarità non regge e occorre aumentare la circolarità per ridurre la dipendenza dall'importazione di materie prime critiche e rendere più efficiente e circolare anche l'utilizzo dell'acqua, valorizzare di più e meglio anche i vantaggi della bioeconomia circolare e rigenerativa. Ottava proposta, bisogna rafforzare le imprese nazionali con un piano nazionale e di sviluppo delle filiere produttive per la transizione ecologica. Va definito un piano nazionale per lo sviluppo delle filiere produttive per la transizione ecologica, tenendo presenti le tecnologie individuate come strategiche per la transizione ecologica e con un'adeguata analisi dei potenziali e delle vulnerabilità del sistema produttivo italiano. Occorre anche aumentare quantità e aggiornare le competenze dell'occupazione e del lavoro. La domanda in queste nuove attività è crescente, serve però capacità di riqualificazione e reimpiego di lavoratori dai settori in declino e in conversione verso le nuove attività richieste. Occorre anche migliorare, decima proposta, l'accesso ai finanziamenti e l'attrazione degli investimenti. Forme di finanza agevolata per gli investimenti verdi sono utilizzate da tempo in tutto il mondo. Ciò nonostante, l'accesso al credito è riconosciuto, continua ad essere un ostacolo che contribuisce ad aumentare i costi e a ridurre le opportunità di sviluppo della transizione ecologica. La necessità di consistenti investimenti iniziali e spesso i tempi lunghi di recupero del capitale limitano le disponibilità per attività e impianti, in particolare per quelli più innovativi. servono quindi percorsi facilitati, autorizzazioni semplificate e una qualche forma di supporto pubblico. Potenziare, non ultimo ma non per importanza evidentemente, è la ricerca e la diffusione, l'innovazione. Nonostante l'elevata propensione all'innovazione di processo e di prodotto delle imprese italiane, che si traduce in buoni livelli di efficienza nell'uso dei materiali e dell'energia, e in una buona qualità delle produzioni, soprattutto quelle ad alto valore aggiunto, l'Italia ha investito poco in ricerca e sviluppo. Il dato è noto, 1,6% del PIL medio a 19,20, meno dalla Germania al 3,1 e dalla Francia al 2,3. Occorre quindi sostenere iniziative di ricerca e di innovazione attivate dalle imprese, rafforzare anche il supporto delle pubbliche amministrazioni per migliorare la gestione dei fondi per la ricerca e anche l'utilizzo dei fondi PNR dedicati all'innovazione. Vanno rafforzati o creati, dove ancora non ci sono, i distretti tecnologici in cui operano a stretto contatto imprese, università, enti di ricerca e amministrazione. In conclusione, guardandoci alle spalle, vediamo che molta strada è stata fatta. Dobbiamo essere però consapevoli che le sfide che abbiamo di fronte sono impegnative e che molta strada resta da percorrere, in un contesto che oggi non è privo di difficoltà, anzi ne ho segnalate diverse. Dobbiamo però essere consapevoli che il vento non sarà mai favorevole per chi non sa dove andare. L'importanza di capire la direzione di marcia è molto importante. La transizione ecologica all'economia di domani potrebbe essere una grande occasione di rilancio per l'Italia. Sta all'impegno di tutti, soprattutto direi di tutti noi di questo mondo della green economy, contribuire a non perdere questa grande occasione. Grazie per la vostra attenzione.